Nermin Sulejmanovic è sempre stato un grandissimo appassionato di fitness, ma soprattutto di bodybuilding. Aveva un account Instagram che contava più di 10.000 follower e, oltre al suo lavoro da personal trainer in una palestra, amava condividere con i suoi follower la sua grandissima passione appunto per il bodybuilding. Ma dietro tutto quel mondo che poteva sembrare così perfetto, si nascondeva qualcosa di estremamente pericoloso e malvagio. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Prima però devo ricordarvi il mio codice, Andrew, che potete inserire su Pampling se volete prendere anche voi le magliette che indosso nei video, come questa. Molto figa, questa nuova. Col codice vi daranno anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Come al solito nella descrizione vi lascio l'offerta della settimana, nonché il link diretto al sito. Detto questo, possiamo cominciare. Per la prima volta in questo canale, oggi voglio parlarvi di un terribile caso avvenuto in Bosnia, in tempi davvero tanto recenti. Infatti è accaduto solo l'anno scorso. Questa è una storia che personalmente mi ha proprio spezzato il cuore e presto capirete il perché. È una storia che fa capire come ancora oggi molti uomini esercitino potere autoritario sulle donne, ritenendosi un genere superiore. Ho voluto raccontare questa storia perché volevo dare una voce alle vittime di questa vicenda, in particolare a quella che sarà la protagonista di ciò che è accaduto. Voglio anche avvisare che si tratta di una storia piuttosto pesante, nonché disturbante, quindi se non ve la sentite o se siete sensibili a determinati temi vi consiglio di non andare oltre. Io comunque sentivo che fosse necessario parlarne proprio per affrontare una tematica che purtroppo ancora oggi è fin troppo ricorrente. E sentivo di doverlo fare non solo per la vittima di questa terribile vicenda, ma per tutte le donne innocenti a cui ogni giorno purtroppo viene tolta la vita. Fatta questa premessa, cominciamo. Come vi dicevo, per il caso di oggi ci troviamo in Bosnia, più di preciso in una città nord-ovest del paese di nome Gradakak. Non so se dirò bene tutti i nomi di questo video, però perdonatemi, se qualcuno sa come si pronunciano tutti questi nomi, per favore mi corregga qui nei commenti. Comunque, nonostante al giorno d'oggi la Bosnia sia un'azione che sta conoscendo un miglioramento dal punto di vista dell'economia, del turismo, ma anche sotto tantissimi altri punti di vista, anche conosciuto purtroppo dei tempi davvero tanto bui. Per dare un contesto devo parlarvi brevemente della tragica storia della guerra in Bosnia. E per farlo dobbiamo tornare indietro di circa 30 anni. È il primo marzo 1992 e la nazione ha appena ottenuto l'indipendenza. La guerra in Bosnia e Derzegovina è strettamente connessa con la dissoluzione della Jugoslavia, iniziata con l'innebolimento del governo postcomunista. Infatti, nel caso della Jugoslavia, il comunismo perde la sua forza ideologica e fa strada al rafforzamento del nazionalismo alla fine degli anni Ottanta. La Jugoslavia è stata creata nel 1918 come una federazione di sei repubbliche socialiste, comprendente diverse etnie e religioni. Tuttavia, negli anni Ottanta e Novanta, le tensioni etniche e nazionalistiche, dopo la caduta del comunismo, si intensificano, portando alla rottura dell'unità statale. Le principali cause della guerra possono essere individuate nei conflitti nazionali, nell'erosione del sistema politico-socialista e nella forte rivalità tra alcune fazioni etniche. L'evento scatenante è stato sicuramente la dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia nel 1991, seguita poi dalla guerra tra queste due repubbliche e l'esercito jugoslavo. La guerra si è poi diffusa a macchia d'olio coinvolgendo appunto la Bosnia, la Macedonia e i Kosovo. Le principali fazioni coinvolte nel conflitto includevano i serbi, i croati, i bosniaci di origine musulmana, gli albanesi e altre minoranze etniche. Questa guerra viene ricordata per la brutalità e le atrocità che sono state attuate. Ci sono stati massacri, vere e proprie pulizie etniche, stupide di massa e la distruzione di intere città e villaggi. La Bosnia in particolare venne colpita da questo terribile conflitto e vide la separazione forzata dalla popolazione attraverso l'uso della violenza, con migliaia di morti e milioni di sfollati. La comunità internazionale ha tentato per anni di mediare il conflitto attraverso la diplomazia, ma è stato solo dopo l'intervento militare della Nato nel 1995 che si è raggiunto un accordo di pace, conosciuto anche come gli Accordi di Dayton. Tuttavia le conseguenze della guerra sono state ovviamente devastanti. Le infrastrutture sono state distrutte e l'economia ha subito gravissimi danni. Il conflitto ha anche alimentato il nazionalismo e l'odio etnico, lasciando profonde cicatrici nella società. È proprio in questo contesto che nasce Nermin Suleymanovic, il protagonista di questa vicenda. Nermin nasce nel 1988 e per quasi i suoi primi dieci anni di vita non conosce la pace. Passa la sua infanzia tra la povertà, la guerra e i bombardamenti, che come vi dicevo erano all'ordine del giorno. È solo a partire dal 1995 quando il paese inizia a conoscere una sorta di tregua che tutta la popolazione si trova di fronte ad una nazione devastata dalla guerra e deve rimettersi in piedi. La sua infanzia quindi è stata molto difficile e i segni del conflitto hanno lasciato il popolo bosniaco ad affrontare tempi davvero durissimi, tra carestia e la tensione che ancora alleggiava nell'aria. La sua famiglia era estremamente povera e si faceva fatica a mettere anche solo del cibo in tavola. Questo sicuramente è stato un durissimo colpo per Nermin. Immaginate che per un bambino in piena fase di sviluppo, di crescita, comunque deve essere traumatizzante crescere in un contesto simile. Durante i primi anni di adolescenza, quindi siamo all'inizio del 2000, Nermin inizia a frequentare alcune gang e così finisce in diversi giri loschi, diciamo così. Parliamo di rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, cose del genere. Questa non è una situazione inusuale per chi cresce in un contesto di estrema povertà e di guerra, perché quando subentra l'età adolescenziale, l'individuo tenta, comunque cerca di ottenere una sorta di riscatto sociale, spesso scegliendo la via della criminalità. Mi sono informato su un bel po' di giornali locali bosniaci e quindi ho potuto ricavare più informazioni riguardo al suo passato criminale, anche se sono quasi certo che anche al momento dei fatti, quindi molto più avanti, Nermin frequentasse ancora dei giri loschi. Nel 2016, infatti, era stato emesso un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti per comportamento violento contro un agente di polizia. E l'anno prima era stato arrestato come membro della banda di spacciatori di Emir Kodzaga, che da alcune fonti ho letto che è stato arrestato anche lui per aver organizzato una sparatoria. Sul web ho anche letto che quelle sono state le ultime accuse a suo carico, o almeno le ultime di dominio pubblico, quindi è possibile che da quel momento Nermin si fosse dato una calmata, oppure che non stesse più sotto i riflettori come prima. Al momento dei fatti Nermin ha 35 anni, ma il suo ingresso nel mondo del fitness si può ipotizzare se è avvenuto intorno ai 25-30 anni. Questo perché all'età di 35 anni, quindi l'anno scorso, la sua corporatura era proprio già da bodybuilder, e sappiamo che già da diversi anni lavorava in una palestra. Come vi dicevo però non ho certezza su questo, quindi prendete la mia affermazione con le pinze. Cerco sempre di affidarmi a fonti superattendibili, a non omettere nessuna informazione, ma purtroppo sono riuscito a trovare anche poche informazioni sulla sua vita privata. Ecco, giusto il minimo essenziale per far capire già da subito che comunque Nermin non è che fosse proprio una persona tranquilla. Ecco, possiamo dire così. Quindi, Nermin è un grandissimo fan del mondo del fitness, e ad un certo punto tra i 25 e i 30 anni trova lavoro in una palestra come personal trainer. Poco dopo comincia a pubblicare sui social, dove nel 2023 aveva ormai accumulato più di 10.000 follower. Questo perché amava condividere la sua vita e la sua passione per il bodybuilding, faceva vedere praticamente tutto. Per contestualizzare, devo dirvi che il bodybuilding è una disciplina che, tramite un duro allenamento con pesi, sovraccarichi e un'alimentazione specifica, si pone come unico obiettivo il cambiamento dell'aspetto fisico, della composizione corporea, meglio. Ecco, con un forte aumento della massa muscolare e la riduzione, ai minimi, del grasso corporeo. Ai rigidi programmi di allenamento sono associati i regimi alimentari adeguati, infatti gli atleti hanno bisogno di un surplus calorico alimentare in aggiunta al normale fabbisogno energetico, arrivando a consumare anche più di 10 pasti al giorno. Un fenomeno che contraddistingue il bodybuilding è anche, purtroppo, l'abuso di steroidi anabolizzanti, che più comunemente viene conosciuto come doping. Col termine doping si intende l'assunzione di sostanze dannose che sono in grado di aumentare però artificialmente le prestazioni del nostro corpo. Questo viene usato praticamente in tutti gli sport, ma soprattutto nel bodybuilding, che richiede molta determinazione, volontà e sforzo. Per questo è molto soggetto al doping. Nel bodybuilding, infatti, pensate, solo il 3% degli atleti non usano queste sostanze, e che fa pensare a quanto siano estremamente diffuse. Nel nostro caso, anche Nermin fa uso di steroidi. La sua crescente popolarità sui social gli ha fatto acquisire una sorta di fama, una notorietà, che a lui piace molto. Condivide ogni giorno le sue sessioni in palestra e incoraggia le persone a mettere su massa, per diventare come lui, simile a lui. E, in sostanza, diventa una sorta di punto di riferimento per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del bodybuilding, che è molto diverso dal mondo del fitness. E questo, sicuramente, penso che l'abbiate capito, cioè fitness è appunto tenersi in forma, mangiare sano, ok? Mentre bodybuilding è appunto basato specialmente sulla composizione corporea. Comunque, il fatto che lui condividesse tutti questi dettagli della sua vita, del suo lavoro, alimenta ovviamente la sua popolarità, che pian piano, purtroppo, gli darà la testa. Vedendo tutte queste persone supportarlo, seguirlo, commentargli, eccetera, Nermin si sente più forte che mai. È una sorta di ispirazione per gli uomini. E questa sua fame di potere viene anche alimentata dall'uso ricorrente di steroidi. Gli steroidi, tuttavia, a lungo andare, oltre a portare grosse problematiche fisiche, hanno anche ripercussioni a livello psicologico. Gli aspetti psicologici che vengono alterati dalla somministrazione degli steroidi anabolizzanti, comprendono euforia, aggressività, irritabilità, tensione, cambiamento della libido, mania, e addirittura in alcuni casi psicosi. E come immaginerete, tutto questo non porterà a nulla di buono. Nermin, però, non è solo il bodybuilder che condivide ogni giorno la sua innocua passione sui social. Perché, dietro a tutto quel mondo che sembra così normale, comunque, e perfetto, in realtà, si nasconde qualcos'altro di molto macabro. Dietro alla figura del bodybuilder motivazionale, infatti, si cela un uomo estremamente aggressivo. Aggressivo e violento. Nermin diventa rapidamente molto instabile dal punto di vista emotivo, e questo avrà delle gravissime conseguenze, perché, tra poco arriviamo al motivo, per cui ho voluto affrontare questa storia. Nel periodo in cui sono avvenuti i fatti, Nermin sta perseguitando la sua ex moglie, Nizama Hechimovic, una donna di 37 anni, con la quale ha avuto una relazione e una figlia. Nizama lavora come infermiere in un ospedale locale, e ama la sua bimba con tutto il cuore. Purtroppo, anche qui, non sono riuscito a risalire all'inizio della loro relazione, come se fossero messe insieme, come se fossero conosciuti, perché nessuna fonte spiega nel dettaglio questa parte della loro vita, e non sono nemmeno riuscito a trovare l'anno in cui si sono sposati, per esempio. Fatto sta che i due, l'anno prima, avevano avuto una bambina, e dalle foto che hanno insieme si può notare come in effetti sembrino una famiglia felice, due genitori che si amano, con una figlia sanissima. Tuttavia, quello che si nasconde dietro a un sorriso a volte può rivelarsi davvero macabro e oscuro, come vedrete in questo caso. La relazione tra i due, infatti, vista da fuori, poteva sembrare perfetta, ma tra le mura di casa, Nizama conosce solo la parte aggressiva e violenta di Nermin. La donna inizia a temere per la sua incolumità, e questa paura ovviamente aumenta dopo la nascita della bimba. Quando una donna mette al mondo un figlio, tutto gira intorno a lui, in teoria, e Nizama a questo punto capisce che non si tratta più solo della sua vita, ma anche di quella della sua bambina. Nonostante questo, le violenze purtroppo in casa diventano sempre più frequenti, e la donna, a soli un paio di mesi dalla nascita della bimba, decide di lasciare Nermin. Lui infatti non solo ha scatti di ira ricorrenti e praticamente incontrollabili, sicuramente anche dati dall'abuso di steroidi, ma diventa estremamente aggressivo e violento. Nizama quindi inizia a temere che tutta questa rabbia, prima o poi, venga sfogata anche sulla bimba, e l'amore che una madre prova per il proprio figlio va oltre qualsiasi cosa. Quindi appunto la donna decide di prendere le distanze. Ed è lì che l'uomo per la prima volta realizza di non avere il controllo e il potere. E questo lo fa infuriare. Il bodybuilder che per anni aveva sfogato la sua rabbia, la sua frustrazione sulla donna che avrebbe dovuto amare e rispettare, si ritrova da solo. Ma l'inferno che Nizama ha conosciuto per tutti questi anni purtroppo non finisce con la richiesta di divorzio. Nermin diventa letteralmente il suo stalker. La segue al lavoro. Cerca in ogni modo di mettersi in contatto con lei, si presenta sotto casa sua a qualsiasi ora del giorno e della notte, prova addirittura a contattare i suoi amici e i suoi familiari. La sua fame di controllo e di potere viene giorno dopo giorno alimentata a dismisura con l'abuso di steroidi. Nizama in tutto ciò è sempre più spaventata e si reca sempre più spesso alla centrale di polizia per chiedere aiuto. La donna in realtà già in passato aveva contattato numerose volte la polizia per denunciare gli svariati episodi di violenza domestica ed erano già state presentate delle denunce contro Nermin. La polizia sapeva bene cosa stava succedendo, conosceva anche bene l'uomo, sapeva del suo passato criminale, sapeva che aveva già ricevuto tante denunce per aggressione e non solo da parte della sua ex moglie. Conoscevano il personaggio estremamente aggressivo, violento, pericoloso e sapevano che la donna era spaventata. Lo sapevano, eppure non si è mai fatto nulla di concreto per proteggerla. E questo ragazzi mi spezza davvero il cuore perché Nizama ci ha davvero provato a far capire che Nermin era un uomo violento e da rinchiudere ma nessuno l'ha ascoltata. Da rinchiudere o da aiutare, magari c'era ancora una piccola speranza l'avrebbero potuto aiutare ancora a quell'epoca, magari. Tuttavia Nizama, nonostante le denunce e tutto, era sola, completamente sola. Esattamente una settimana prima degli eventi, gli eventi che appunto mi hanno spinto a voler raccontare la storia di questo caso. Dopo l'ennesimo tentativo di intimidazione da parte del suo ex marito, la donna si reca alla centrale per chiedere un'ordinanza restrittiva, ovviamente sommata alle decine e decine di denunce per violenza e stalking già presentate. E sapete cosa? Questa richiesta viene respinta. Ancora non mi spiego come il tribunale, nonostante tutte le prove di aggressione e il passato di Nermin, abbia respinto la richiesta di Nizama. Anzi, arrivati a questo punto, penso che la donna non stesse neanche più solo chiedendo ai giudici di aiutarla, ma li stesse praticamente supplicando. Ennesima volta, però, in cui non verrà ascoltata. E che purtroppo porterà però a un tristissimo e tragico epilogo. Cinque giorni prima dei fatti, Nizama fa visita a sua nonna, che considerava praticamente come una seconda mamma. La nonna, una volta insieme, nota subito quanto sua nipote fosse dimagrita e quanto fosse estremamente stanca e stressata. E si preoccupa davvero tantissimo per la sua salute. La nonna, come tutti i familiari della donna, conosce benissimo la situazione in cui si trova Nizama e teme tantissimo per la sua incolumità. Le chiede più volte se vada tutto bene e la nipote risponde di non preoccuparsi e che il motivo per cui era così stanca era a causa della bambina che non la faceva dormire la notte. Poi scarica anche la colpa alle tante ore di lavoro. Questo è un altro dettaglio che mi ha fatto stare molto male perché nonostante la paura che la stava consumando giorno dopo giorno, lei ha deciso comunque in qualche modo di non far preoccupare sua nonna e di non metterla in mezzo a questa storia. Forse temeva che Nermin avrebbe potuto fare del male anche a lei. E questo secondo me ci fa capire benissimo quanto avesse paura. Quel giorno la nonna avrebbe visto sua nipote per l'ultima volta. Esattamente cinque giorni dopo, Nizama verrà brutalmente assassinata dal suo ex marito violento. Lo stesso uomo che la stava perseguitando, intimidendo, minacciando, aggredendo e per cui lei aveva asporto denunce su denunce. Nizama ha chiesto aiuto e queste grida di aiuto non sono state ascoltate. Arriviamo così all'11 agosto del 2023, nemmeno un anno fa. I follower di Nermin ricevono una notifica che li avvisa del fatto che l'uomo ha appena avviato una live. E pensando che si tratti di una delle sue solite live in cui parla di bodybuilding, di alimentazione, di fitness, iniziano piano piano tutti quanti a sintonizzarsi. Si rendono però presto conto che non è questo il caso e che tutta la situazione sembra molto strana già dall'inizio perché nello schermo non appare nessuno. Molto rapidamente però la situazione prende una svolta inaspettata ma soprattutto terrificante. Nermin punta il telefono verso una donna. È una donna seduta nella sua stessa stanza ed è completamente ricoperta di sangue. Ha la faccia gonfia, piena di lividi. La bocca è aperta e sanguinante. I capelli sono praticamente incollati alla fronte dal sangue che ormai si stava seccando. La donna addondolava sulla sedia con gli occhi socchiusi. Sembrava quasi che stesse perdendo l'equilibrio o addirittura perdendo i sensi. Quella donna ovviamente è Nizama. Nizama era stata brutalmente e selvaggiamente picchiata fino ad essere ridotta in quello stato. Sotto la sua sedia, come si può vedere dalle immagini, c'è una pozza di sangue il che significa che è rimasta lì a gocciolare, magari per ore. Nessuno degli spettatori in streaming in quel momento realizza davvero cosa stesse guardando ma soprattutto nessuno capisce chi fosse questa donna perché Nermin non aveva mai condiviso con i suoi utenti la sua vita privata. Molto rapidamente la voce inizia a girare e la live raggiunge i 12.000 spettatori. 12.000 persone che in quel momento stanno guardando quella scena terribilmente disturbante. Le persone iniziano a commentare la live chiedendo a Nermin cosa stia accadendo ma soprattutto perché non stia aiutando quella povera donna ridotta in quello stato. Lentamente si inizia a percepire che c'è qualcosa di davvero sbagliato in quella live c'è qualcosa che non va e gli utenti cominciano a pensare che l'uomo sia proprio l'artefice di quella terribile violenza. Il telefono intanto continua ad essere puntato su Nizama che nel mentre fatica a tenere gli occhi aperti. All'improvviso però il silenzio assordante che incombeva nella stanza viene spezzato da qualcosa. È il pianto di un bambino, ovviamente la figlia di Nermin e di Nizama. Quella povera bambina in quel momento si trovava nella stessa stanza dei suoi genitori e aveva appena assistito alla brutale aggressione di sua madre. Mentre la bambina sta ancora piangendo Nermin inizia a parlare. Dice che il motivo per cui stava facendo tutto questo era perché la donna che si trovava davanti a lui la donna che avrebbe dovuto amarlo ha avuto la faccia tosta di denunciarlo alla polizia. Vi parlavo prima del passato criminale di Nermin del fatto che avesse avuto diversi guai con la polizia e quindi il fatto che lei l'avesse denunciato per lui era inaccettabile. Sembra quasi che per lui sia una questione personale. Poi punta di nuovo il telefono verso la donna e le chiede perché abbia voluto coinvolgere la polizia in tutto quello. Nizama ovviamente riesce a malapena parlare. La sua faccia è sempre più gonfia sempre più coperta di sangue. Tra un respiro affannato e l'altro sussurra che ha contattato la polizia perché aveva paura. Aveva paura per lei e per la sua bambina. Temeva per la loro vita ogni singolo giorno ed era stanca. Era terrorizzata. Nermin quindi punta il telefono verso un tavolo vicino a lui. Sopra il tavolo c'è una pistola. L'uomo allora grida che tutti gli spettatori della live avrebbero assistito a qualcosa che non avevano mai visto prima. Un omicidio indiretta. Poi senza lasciare il tempo a nessuno di realizzare e di digerire cosa avesse appena detto recupera la pistola sul tavolo con uno scatto. La punta verso la donna e le spalla in testa. Un colpo solo. Nizama viene brutalmente assassinata davanti a 12.000 persone e davanti alla sua bambina. A quel punto in sottofondo si sentono solo le urla della bambina. Quelle urla strazianti che rimbombano in tutta la stanza fanno venire la pelle d'oca a chiunque stesse guardando quella scena. Nermin fa una panoramica anche di tutta la stanza e poi inquadra la bimba che ora è a terra che piange disperata. Quella bambina ha appena assistito all'omicidio di sua madre. L'unica donna al mondo che era lì per proteggerla. Adesso si trovava immobile senza vita su una pozza di sangue proprio di fronte a lei. Penso sia davvero la scena più straziante a cui un essere vivente possa mai assistere. Ok che la bambina era molto piccola ma sono sicuro che assistere a una scena del genere comunque ha delle ripercussioni non di poco conto. Onestamente penso che questo sia uno dei casi più contorti e malati di cui vi abbia mai parlato. E pensare che più di una decina di migliaia di persone stava vedendo tutto dallo schermo del cellulare è davvero allucinante. Nizama non solo è stata uccisa dall'uomo che avrebbe dovuto semplicemente amarla e proteggerla ma è stata selvaggiamente picchiata torturata e umiliata davanti a 12.000 persone. Nonostante le denunce nonostante le richieste d'aiuto le suppliche nessuno l'ha ascoltata e la donna si è ritrovata sola e indifesa in questa situazione straziante impotente debole un'umiliazione veramente senza precedenti. purtroppo nessuno in quel momento si rende davvero conto della follia di Nermin e nessuno ancora sa che di lì a poco avrebbe dato il peggio di sé perché la sua furia omicida era appena cominciata. Quel giorno l'uomo compirà un vero e proprio massacro. Sempre nella live Nermin inquadra di nuovo la bimba e con una voce gelida dice che qualcuno sarebbe dovuto andare a salvarla. Poi la live si ferma e l'uomo esce di casa lasciando sua figlia lì sul pavimento a urlare disperata vicino al corpo senza vita di sua madre. Questo è completamente folle è un caso che fa davvero rabbrividire e fa capire quanto la mente umana possa essere crudele e contorta. Fortunatamente la polizia però viene allertata immediatamente. Ricordate che l'uomo era stato trasmesso in diretta a ben 12.000 persone quindi tutti avevano assistito a questa violenza e qualcuno aveva chiamato la polizia. Sul posto insieme alla polizia arriverà anche un amico di Nermin nonché il proprietario della palestra in cui lavorava un uomo di nome Emir Zinovic che conosceva bene anche la bambina. Da alcune fonti ho letto che sarà proprio lui a recuperarla e a portarla al sicuro. Ad ogni modo vengono immediatamente allertate tutte le centrali di polizia della città e Nermin diventa il ricercato numero uno. In quella folle corsa contro il tempo i poliziotti devono cercare di trovare l'uomo prima che uccida qualcun altro. Sfortunatamente però era già troppo tardi. Nermin dopo essere uscito di casa e aver lasciato sua figlia da sola con il cadavere di Nizama è saltato subito nella sua auto e è iniziato a guidare come un folle per le strade della città. Non posso immaginare cosa passasse nella sua testa in quel momento non so in quale folle psicosi fosse affondato ma fatto sta che durante la sua fuga ha ucciso altre due persone altri due uomini innocenti che si trovavano semplicemente nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Le vittime della sanguinaria folia di Nermin si chiamavano Zengiz Onder di 55 anni e Denis Onder di 23 anni ed erano padre e figlio ed erano semplicemente usciti per fare una passeggiata. Una passeggiata dalla quale però non avrebbero più fatto ritorno. Quel giorno Nermin uccide tre persone innocenti tre persone senza nessuna colpa se non quella di aver incrociato il percorso di un maniaco omicida. Ma la corsa dell'uomo non finisce qui perché intanto lui stava ancora sfrecciando con la sua auto a tutta velocità per le strade della città continuando a sparare colpi di pistola in aria alimentando così ovviamente il panico generale. Intanto la voce dell'omicidio in diretta su Instagram si sparge in maniera così veloce che raggiunge subito e avrebbe potuto uccidere ancora e potenzialmente avrebbe potuto prendere di mira chiunque cioè stava guidando come un folle sparando a caso. Durante la sua fuga disperata Nermin spara anche ad un agente di polizia e poi ad un altro uomo e a una donna. Per fortuna però questi ultimi tre riusciranno a sopravvivere ma saranno ricoverati in ospedale in condizioni molto gravi. Se pensate che la sua follia abbia raggiunto il limite allora vi sbagliate anche qui. L'uomo infatti decide di avviare una seconda live su Instagram e questa volta si mostra completamente fuori di sé. Nella live si vede Nermin infuriato che dice di aver ucciso altre due persone quel giorno. Due persone che definisce come suoi nemici. Stava parlando di due uomini il padre e il figlio e non si sa bene se li abbia definiti nemici perché effettivamente li conosceva e quindi magari l'omicidio può essere ricollegato a un regolamento dei conti visto il suo passato criminale oppure se anche questa sua affermazione fosse frutto di un delirio. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito all'omicidio Nermin in realtà appunto conosceva bene i due uomini e aveva già premeditato l'uccisione. Comunque nella live continua dicendo di essere fiero di aver spavato un poliziotto ma che quest'ultimo era riuscito a mettersi in salvo poi aggiunge che tutto quello che ha fatto è stato a causa di Nizama che l'aveva denunciato alla polizia e che gli aveva nascosto la bambina per non fargliela vedere. Tutta la sua rabbia e la sua frustrazione quel giorno vengono sfogate in maniera incontrollabile e brutale. Nermin lasciando quindi intendere che probabilmente in passato avesse già ucciso. Anche qui però non possiamo sapere se questa sua affermazione fosse vera o se in quel momento fosse tutto frutto di una psicosi delirante o di chissà che cosa. Cosa molto plausibile secondo me vista la situazione. Comunque quella sarà l'ultima volta in cui Nermin apparirà sui social perché poco tempo dopo sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Infatti grazie alla sua ultima live su Instagram le pattuglie della zona sono riuscite a localizzarlo molto in fretta e a raggiungerlo. Penso che arrivati a questo punto l'uomo non cercasse nemmeno più di fuggire di nascondersi perché nella sua testa sapeva benissimo che sarebbe finito dietro le sbarre. Ma non appena decine di agenti si avvicinano alla sua auto e praticamente lo circondano lui realizza davvero di non avere più via di fuga quindi si spara in testa. Come vi dicevo un epilogo triste e straziante. Il fatto che Nermin abbia deciso di uccidersi dopo aver compiuto la strada e lascia davvero l'amaro in bocca perché in questo modo l'uomo non ha pagato e non pagherà mai per le sue azioni terribili. Ha semplicemente dimostrato fino all'ultimo respiro di essere un miserabile cioè con un orgoglio troppo alto per finire nelle mani dei poliziotti ma cioè così è stato troppo facile. Nermin doveva essere arrestato e pagare fino alla fine dei suoi giorni per quello che aveva fatto. Aveva tolto la vita ad una donna innocente in questo modo barbaro senza pietà e poi aveva ucciso altre due persone e tentato di ucciderne altre tre ci rendiamo conto togliersi la vita in questi casi è un atto estremamente ipocrita da viscidi. E la cosa che mi fa più arrabbiare è che purtroppo questo non è un caso isolato anzi ce ne sono tantissimi magari non efferati come questo ma altrettanto tristi e ingiusti. La reazione del popolo bosniaco ovviamente è stata molto forte e si è fatta sentire almeno entro i confini statali. Nel giorno seguente l'omicidio migliaia di persone in tutto il paese si sono riversate nelle strade per protestare contro la violenza sulle donne e contro il fenomeno del femminicidi che al giorno d'oggi purtroppo è ancora una tematica troppo ricorrente in tutto il mondo. L'opinione pubblica si è anche scagliata tantissimo contro le istituzioni e contro le autorità che nonostante le numerose denunce presentate da Nizama non hanno ascoltato le sue richieste di aiuto anzi a quel punto più che richieste erano diventate suppliche. La domanda che tutti si pongono è perché una donna viene considerata solo quando viene uccisa? Nel paese la tensione riguardo a questo tema è già alle stelle perché non ci sono vere e proprie leggi che tutelino le donne in casi come questi e nemmeno leggi sulla violenza domestica quindi capite bene che in una situazione così delicata bisogna farsi sentire bisogna lottare per la tutela delle persone. Nermin quindi non è il solo ed unico colpevole di questo brutale omicidio perché c'è qualcosa di fortemente sbagliato in questo sistema e non solo in Bosnia. A partire dalle leggi fino ad arrivare alle forze dell'ordine ai tribunali ai giudici tutte le istituzioni in casi come questo e in circostanze simili dovrebbero comunque ritenersi colpevoli ok che non ci sono le leggi ma è una persona che chiede aiuto io non lo so lo trovo assurdo. Pensate che nel 2023 solo in Italia sono stati 118 i casi di femminicidio e dall'inizio del 2024 ne abbiamo già sentiti fin troppi. Mi sarebbe piaciuto concludere questo video in maniera un po' più spensierata ma è anche per questo che ho voluto trattare questo caso. Parlare di true crime non significa solo condividere fatti realmente accaduti ma vuol dire anche prendere consapevolezza degli atti compiuti da alcune persone di cosa si sarebbe potuto fare cosa si sarebbe potuto evitare ma soprattutto significa ricordare le persone innocenti e denunciare affinché storie del genere non si ripetano. Questo video quindi vorrei dedicarlo a Nizama che è stata una donna fortissima una donna che ha provato con tutta se stessa a salvarsi e non è stata ascoltata. Solo adesso solo dopo la sua voce viene compresa e presa in considerazione ed è una cosa semplicemente sbagliata e tristissima. E' stato molto difficile scrivere questo caso perché la notizia è stata riportata soprattutto sui giornali bosniaci e ho trovato davvero pochissimi articoli in italiano e in inglese che ne parlassero ma appena sono venuto a conoscenza delle vicende ho capito che era importantissimo parlarne. Era importantissimo far conoscere la storia di Nizama anche qui ed era anche importante darle una voce ma anche dare voce a tutti coloro che chiedono aiuto e non vengono ascoltate per far sapere loro che non sono sole che qualcuno vi ascolta che se chiedete aiuto a volte c'è davvero qualcuno disposto ad aiutarvi purtroppo non è stato questo il caso ma dato che è accaduto un caso del genere da ora in poi si spera anche lì qualcuno ascolterà le parole di donne in difficoltà e questo era tutto se in qualche modo vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se non vi è piaciuto che vedevo di in ogni caso hai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo oddio anticipo che presto parleremo di una vicenda diventata molto conosciuta per via di una chiamata al 911 sono sicuro che tanti di voi hanno sentito la chiamata ma non conoscono i dettagli della vicenda della storia io in primis non conoscevo i dettagli conoscevo la chiamata ma non viene tutto quanto ecco spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda youtube non sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao